Sono felice di essere qui, voglio giocare, i documenti sono arrivati, voglio ringraziare tutto lo staff che molto ha fatto per farmi giocare a Trieste. Finalmente è arrivato il transfer che ha permesso a tutti gli effetti a Langwa Zoom di diventare un giocatore della Triestina. Lo stesso club non ha mai mollato la presa, né desistito, né continuare ad aspettare la burocrazia necessaria per tesserare il giocatore che ora è pronto a scendere in campo in una partita di campionato. Io sarei anche pronto, ma aspetta il mister decidere. Posso avere un ruolo nella prossima partita, perché no? Zoom, questo è il soprannome del giocatore, ha poi spiegato come potrà contribuire alla causa Giuliana anche in virtù del suo ruolo in campo. Sono convinto di essere più valido in attacco che in difesa, dove dovrei perfezionarmi, ma sono pronto a giocare in qualsiasi ruolo. Ci sono voluti parecchi mesi per ottenere il nulla osta necessario per tesserare con la Triestina Langwa Zoom, che ha doppio passaporto camerunense e canadese e l'attesa per il giocatore è stata piuttosto snervante. Non è stato facile il periodo in cui non ho giocato, è stato difficile mentalmente cercare di pensare a qualcosa di costruttivo mentre non giocavo. Ora però non vi sono altri ostacoli ad impedire la discesa in campo del calciatore, che si appresta ad affrontare questo impegno con grande determinazione. Resterò nella Triestina il più a lungo possibile, proprio perché è stato il primo club a darmi l'opportunità di giocare ad un certo livello e ringrazio ancora la squadra e la società. For that reason, I thank the organization again and I plan on staying here for as long as possible.